si sono lasciati raggiungere e superare come se avessero smesso di lottare su ogni pallone l'allenatore dovrà lavorare su questa amnesia e invece oggi hanno ottenuto una prova decisamente vaga il fattore campo gli si è ritorto contro si sono innervositi per lo svantaggio e il clima che si era creato sugli spalti e non hanno saputo recuperare si chiude qui il nostro collegamento un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiano un ringraziamento e un saluto anche da parte mia e anche da parte mia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.